A circa 40 giorni, già così piccolo segnato. Viola! 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 Guarda che è! Mamma mia questa pancia! Viola! Polpettina! 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 Facciamoci vedere! Viola! Violi! Vieni qua da Siria! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ragnetto? Poi di d'idea di chiamarlo! Vieni qua! Si sta orgogliendo! Non ho capito! Perchè mi guardgo quella vecchetta tutta incazzata di travesso! Che cosa? Giuli! Giuli! noi stiamo preparando lo zainetto per domani mattina ci prepariamo a partire mangiamo adesso facciamo la pappa che poi domani dobbiamo stare a digiuno per la risonanza eh polpettina mangiamo polpetta polpettina 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 allora questa zampa no questa no questa no questa zampa questa zampa questa zampa dammi la zampa dammi la zampa no non vuole fare gli esseri dai 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 da zampa questa zampa non fare a favore ti prego movimenti con le mani che la fai diventare aggressiva non è la cattiva vedi diventa aggressiva stai ferma con questa mano imma vedi diventa aggressiva guarda guarda è aggressiva perché ti muovi troppo vedi non ti muovi non è perché gioca no non gioca noi la stiamo insegnando all'aggressività guarda vedi pure lo straccio non deve passare signora non passi lo straccio perché il cane guarda lei diventa aggressiva vede vede è aggressiva perché stai ferma ti prego imma perché adesso lo devo pubblicare questo video per fare vedere come noi istighiamo miulano all'aggressività e alla violenza vero io la posso sbremere un pochino no no vedi siamo fermi e lei vedi vieni miulano dai vieni 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 miulano vieni dai 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 va bene fate così allora quando dovete fare il bacino e insegnate la strada così ci vanno da sola ovo i ah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti